L'esposizione internazionale della triennale è una grandissima operazione anche mediatica evidentemente e culturale perché ci sono tantissime mostre, la città viene implicata in una grande rete in cui appunto la triennale diventa protagonista di qualche cosa che in fondo va oltre la missione culturale di cui la triennale si era fatta carico, cioè portare avanti un discorso strettamente disciplinare sul design, sull'arte e l'architettura, invece provando a interagire anche con altri contesti. Quindi io credo che sia una rivoluzione in qualche modo questo ritorno della triennale. Il tema su cui la triennale in senso lato agisce appunto con questa edizione, design after design, è un tema che amplia estremamente il raggio d'azione appunto dove design naturalmente è il progetto ma è anche l'industrial design. E però io credo che sia un tema che in fondo riporta all'attenzione la questione della triennale come appunto luogo di discussione su queste tematiche senza voler declinarle in un senso stretto. In fondo anche la scelta curatoriale di, innanzitutto di moltiplicare le mostre ma poi anche di compartirle secondo una certa diciamo geografia, in fondo è la testimonianza del fatto che questo tema voglia essere affrontato nel modo più largo possibile con un amplissimo spettro. E cosa significa per la città di Milano ospitarla? Allora io credo che anche la triennale abbia assunto un modello che è stato molto vincente in questi anni a Milano che era quello del Salone del Mobile, l'abbia incrociato con un modello diciamo straniero per così dire che era quello veneziano della Biennale. Per cui mettendo insieme questi due momenti si provi a rilanciare Milano dopo il lancio del 2015 con l'Expo, si ribadisce in qualche modo qualche cosa che pone Milano al centro dell'attenzione internazionale e credo che la triennale possa farcela da questo punto di vista.